Un'azienda di Cassano delle Murge specializzata nella produzione di sacchetti di plastica non compostabile è stata sottoposta a sequestro preventivo da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Bari e del Comando Forestale. L'operazione è scattata nell'ambito di una campagna promossa a livello internazionale dall'Interpol finalizzata ai controlli sulla filiera di produzione, importazione e distribuzione di shoppers non conformi alle norme comunitarie. e alla gestione dei fanghi da depuratori urbani. Dagli accertamenti condotti dai militari per tutto il mese di ottobre sono emerse infatti numerose violazioni della ditta rispetto alle disposizioni della comunità europea in materia. Dal primo gennaio scorso i sacchetti di plastica sono vietati a favore di quelli biodegradabili e compostabili. L'azienda dell'estensione di circa 5.000 metri quadri e del valore di 2 milioni di euro continuava tuttavia a produrre buste in plastica come se nulla fosse. Scattati i sigilli, il legale rappresentante della società è stato denunciato all'autorità giudiziaria e accusato di gestione illecita di rifiuti speciali.